La situazione ormai è questa. Non possiamo preoccuparci se la Normandy riuscirà o meno a riportarci a casa. Siamo venuti qui per fermare i collettori e questo significa elaborare un piano per distruggere questa stazione. Ida, mostraci la tua scansione. Raggiungendo questo centro di controllo principale dovreste riuscire a sovraccaricare i loro sistemi primari. Questo significa raggiungere il cuore della stazione oltre questo enorme picco energetico. Quella è la sala centrale. Se il nostro equipaggio o i coloni sono ancora vivi probabilmente i collettori li avranno portati lì. Sembra che ci siano due strade principali. Credo che sia il caso di dividersi per confondere i collettori riunendoci poi nella sala centrale. Non va bene, entrambe le strade sono bloccate. Vedi queste porte. L'unico modo per oltrepassarle è mandare qualcuno ad aprirle dall'altro lato. Qualche esplosivo ben piazzato dovrebbe aprire la strada. Non abbiamo abbastanza cariche a bordo per creare un'esplosione in grado di danneggiare i muri interni. Se non possiamo aprirci la strada con la forza useremo la furtività. Qualcuno dovrà infiltrarsi usando questo condotto di ventilazione. Praticamente una missione suicida. Mi offro volontario. Apprezzo il pensiero, Jacob, ma non riusciresti a disattivare in tempo i sistemi di sicurezza. Dobbiamo mandare un tecnico esperto. La scelta è tua, comandante. Chi manderemo nel condotto? Serve qualcuno in grado di bypassare il sistema di sicurezza. Tali, vai tu. Non ti deluderò. Dividiamoci in due squadre e combattiamo in entrambi i passaggi. Dovrebbe attirare l'attenzione dei collettori lontano da te. Io guiderò la seconda squadra, Shepard. Ci rivedremo dall'altro lato delle porte. Non tanta fretta, cheerleader. Nessuno vuole prendere ordini da te. Questo non è un concorso di popolarità. Ci sono in ballo delle vite, Shepard. Ti occorre qualcuno che possa ispirare lealtà grazie all'esperienza. Garus, tu sarai a capo della seconda squadra. Beh, almeno sa quello che fa. Una volta dentro ci scaglieranno addosso tutto quello che hanno. Se saremo deboli, se saremo lenti, se esiteremo, moriremo. I collettori hanno attaccato la nostra nave. Hanno preso il nostro equipaggio. I nostri amici. Ci ritengono impotenti. Si sbagliano. Hanno iniziato una guerra. Ma non siamo qui per finirla. Siamo qui per farli pentire. Per dimostrare a loro e a chiunque altro cosa succede a spingersi troppo oltre. Basta scappare. E basta attendere. Li colpiremo a casa loro. 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 Sono nel condotto di ventilazione, Shepard. Fa caldo qui, ma da quello che vedo sembra sgombro. Seconda squadra, siete in posizione? In posizione. Ci vediamo dall'altro lato di quelle porte. Seconda squadra, siete in posizione. Seconda squadra, siete in posizione. Seconda squadra, siete in posizione. Sede in posizione. Grazie a tutti. 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 Shepard. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Joker, a tutti. Grazie a tutti. Vado. Grazie a tutti. Arrivano. Grazie a tutti. Nessun' Nemici, davanti a noi. Siamo compromessi. Fuoco nemico. Mi riparo. Avvisami quando vuoi avanzare. Ordine ricevuto. Ingaggio il bersaglio. Questa è ciò che vede. Siete dei passi. Uno in meno. Ci penso io. Questa è una cosa per solo. Affermativo. Siamo intatto con il bersaglio. Affermativo. Via libera. Avvisami quando vuoi avanzare, comandante. Te. Il corpo. Potrebbe essere dura. Manterrò la posizione finché non sarai pronto a muoverli. Mi ingaggio il bersaglio. Facciamo. Eccoti servito. Via libera. Avvisami quando vuoi avanzare. Vado, comandante. Vado, comandante. Perfetto. Siamo stati individuati. Siamo stati individuati. Resisterò... Più... Che posso. Vedo l'ingresso. Bisogna... raggiungerlo... subito. �� da più. Beyebba... Perfetto. Resisti. Ci siamo quasi. Procediamo rapidamente, comandante D'accordo, muoviamoci Arrivano, tieni duro Spregati, Shepard Forza Shepard, dove sei? Ti ricevo, qual è la tua posizione? Siamo bloccati alla porta, siamo sotto attacco Stiamo arrivando, tenete duro Apri questa porta Forza Chiudi la porta Joker, sei al punto di rendezvous? Sono qui, comandante Chakwas e il resto dell'equipaggio sono appena arrivati Il gruppo del signor Taylor è appena arrivato, Shepard Nessuna perdita Eccellente, facciamo in modo che ne sia valsa la pena Ida, cosa dobbiamo fare ora? Nei paraggi dovrebbero esserci alcune piattaforme Che vi porteranno al terminale di controllo principale Da lì potrete sovraccaricare il sistema e distruggere la base Comandante, avete un problema? I nemici si stanno ammassando fuori dalla porta Non ci vorrà molto prima che facciano irruzione Una retroguardia potrebbe difendere questa posizione e impedire ai collettori di travolgerci Scegli una squadra da portare con te, Shepard Gli altri potranno appostarsi qui e coprirti le spalle Siamo pronti? Anche io pronto Qualcosa da dire prima di procedere? I collettori colgono di sorpresa i loro bersagli Colpiscono e fuggono Per quanto siano potenti sono dei codardi Non hanno mai affrontato gente come noi Gente come voi Non so se possono provare paura Ma di certo gliene daremo l'occasione Colpiteli duro In un modo o nell'altro Finirà qui Faremo del nostro meglio Buona fortuna, Shepard Con te Con il co... In azione dell'energia Si like Oss! O mens! Sensi! Con te Sensi! Oph! Uff! Vale? Sensi! Questa è pieno Chepat Scriptures Assumiamo il controllo Angaggio avversario Assumo il controllo di questa forma Bersaglio ostile Assumo il controllo diretto Ordin subito Colpito Siamo la Hando Vado Arriba Faccio l'imprega Faccio l'imprega Faccio l'imprega Bersaglio processato Nemico disattivato Ci siamo Tutti i tubi convergono in questo punto Ida, cosa puoi dirci? Che stanno conviv... I tubi entrano in una specie di superstruttura La quale emette rilevazioni energetiche Sia organiche che sintetiche Considerando le rilevazioni Deve essere enorme Shepard Se i miei calcoli sono corretti La superstruttura È un razziatore Non un razziatore qualunque Un razziatore umano Precisamente Sembra che i collettori abbiano processato decine di migliaia di umani Molto più di quelli richiesti per completare il razziatore È troppo grosso per le nostre armi Ida, trova un modo per far saltare quella cosa I grossi tubi che iniettano il fluido Sono una debolezza strutturale Distruggendoli i supporti dovrebbero crollare Eliminando il razziatore Dacci un minuto Ida Prima dobbiamo occuparci di alcuni vecchi am Versaglio stile A nostra sinistra Mi metto a riparo D'accordo Non c'è paura Non c'è ancora Nicolino Ida Elimina i puli d'inizio Cho衦 Oh bè Ah Subiamo l'arco. Uno a ferro. Due di iniezione col cavolo. Fuoco alleati. Certamente. Combattimento imminente. Subiamo l'arco. Sotto attacco. Certamente. L'assunzione. Auto ad attacco. Attacchiamo il bersaglio richiesto. Questo farà male. Sotto attacco. Sotto attacco. Sotto attacco. Sotto attacco. Sotto attacco. Sotto attacco. Neutralizzazione con fucile di precisione. Sotto attacco. Sotto attacco. Questo è ciò che vi attende. So che fa male. Sotto attacco. Gli scudi sono andati. Sotto attacco. Sotto attacco. Sotto attacco. Sotto attacco. Sotto attacco. Shepard alla squadra da sbarco, rapporto Sono Tane, stiamo resistendo ma non si fermano mai Sarebbe male ritirarsi alla svelta Alla Normandy, Joker pronto al decollo Sto per sovraccaricare questo posto per farlo saltare in aria Ricevuto comandante Comandante, ho un messaggio in arrivo dall'uomo misterioso Ida de los temi Shepard, hai fatto l'impossibile E non ho ancora finito Questa base verrà annientata tra dieci minuti Aspetta, ho un'opzione migliore Sto esaminando i diagrammi inviati da Ida Un impulso radioattivo dovrebbe uccidere i collettori rimasti Ma lasciare le macchine e la tecnologia intatta È la nostra occasione Shepard Stavano costruendo un razziatore Quelle conoscenze, quella struttura potrebbero salvarci Sono venuto qui per distruggerla Ma se hai un'idea migliore, sentiamo Abbiamo solo vinto una battaglia Ma siamo ancora in guerra Quella base ci fornirà la tecnologia necessaria a combattere i razziatori Forse è meglio così Avere il comando significa fare sacrifici Lo sai meglio di chiunque altro, Shepard Con una minaccia di questa portata le regole non contano Se questa stazione può aiutarci a fermare i razziatori Dobbiamo sfruttarla Stai facendo la cosa giusta Il reattore esplode fra dieci minuti Le radiazioni uccideranno chiunque si trovi a bordo Alla clocca della barriera c'è Overnclocca della barriera c'è Contatto in alto Non c'è salvo l'intervento diretto 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 C'è salvo l'intervento diretto Con un tiro Non c'è salvo l'intervento diretto Con un tiro Inferno A quel tiro Cerca di un tiro E' un tiro Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tutti i superstiti sono a bordo. Aspettiamo solo te. Umano, non hai cambiato niente. Le vostre specie hanno attirato l'attenzione di essere infinitamente... Coloro che voi chiamate razziatori saranno la vostra salvezza attraverso la distruzione. Detonazione in dieci, nove... Sì, ho capito, Ida! Tenetevi forte! Avete fannito. Troveremo un altro modo. Abbandono il controllo. Sì, ho capito. Shepard, è un nuovo giorno. E dobbiamo ringraziare te per questa acquisizione. Abbiamo fatto la cosa giusta. Non c'è bisogno che tu cerchi di convincermi. Sempre disposto a fare ciò che devi. Beh, ha dato buoni risultati. L'adattamento delle tecnologie della base dei collettori potrebbe portare al più grande progresso della razza umana dai tempi della scoperta dei portali. Ci assicurerà il dominio della galassia contro i razziatori e oltre. Il dominio umano o quello di Cerverus? Sono la stessa cosa. La mia missione è sempre consistita nel promuovere e difendere la forza dell'umanità. Non lasciare che l'idealismo ti accechi. Sfruttare la base al suo pieno potenziale è il modo migliore per realizzare i nostri obiettivi. Dobbiamo impiegare ogni possibile risorsa contro i razziatori. Niente può interferire. L'Araldo sta arrivando. E non sarà solo. Se nasconderai qualcosa, qualsiasi cosa, avrai chiuso. Non è così facile, Shepard. Abbiamo bisogno l'uno dell'altro. Fermerò i razziatori, ma non sacrificherò l'anima delle nostre specie per farlo. Non dimenticarlo. Fermerò i razziatori Fermerò i razziatori Fermerò i razziatori